Ciao ragazzi, sono Danny Bertone e con questo breve video voglio presentarvi il mio nuovo disco solista uscito il 1 aprile 2022 dal titolo Diffonia. Un disco completamente autoprodotto, dal artwork della copertina fino alla registrazione e al mastering finale. Lo potete trovare ed ascoltare su tutte le piattaforme streaming, mentre invece per gli amanti della copia fisica ho confezionato alcuni vinili e alcuni cd, come ad esempio questo. Diffonia è un disco che amo definire particolare per il genere, perché ho cercato di far coesistere all'interno delle composizioni due mie grandi anime musicali, quella sicuramente del rock guitar oriented e quella anche del funk in forma canzone, genere che assolutamente adoro. Grazie a questo binomio musicale ne sono uscite 10 tracce, a mio avviso, dal sapore molto inusuale per un disco chitarristico, grazie anche all'apporto di una super band di otto elementi, che non smetterò mai di ringraziare abbastanza, tra i quali un percussionista e una sezione di tre fiati. Per farti ascoltare qualcosa di questo disco ho preparato due clip. La prima un po' più ritmica, un po' più funk, presa dalla prima traccia del disco, che si chiama Scendi, e un'altra un po' più solista, un po' più forse anche Shredding, presa da un'altra traccia del disco, che si intitola Inverso. Te le vado a spiegare brevemente e te le faccio sentire. Prima clip quindi tratta da Scendi, il primo brano del disco. Una ritmica abbastanza impegnativa perché vado a mischiare il classico comping funk con la gestione in palm muting delle single note. Una ritmica costruita sull'accordo di fa settima con la non eccedente, cercando di sfruttare il suono di questo accordo sì maggiore, ma con spiccate sonorità anche minori, grazie alla possibilità di rienarmonizzare la non eccedente come terza minore. Proprio per questo vado a suonare su questo accordo la classica pentatonica di fa minore, arricchendola però con alcune note molto interessanti come ad esempio la sesta maggiore e la blue note. Te la vado a far sentire. Grazie a tutti. Seconda clip invece come ti dicevo tratta da Inverso, un brano molto energetico e il tema principale di questo brano è composto tutto sopra l'accordo di la bemolle settima dominante. E partendo dall'arpeggio di questo accordo e dal modo misolidio di la bemolle, ho cercato di rendere più imprevedibile l'andamento melodico del mio fraseggio grazie a cromatismi inseriti all'interno sia dell'arpeggio che del modo misolidio. Te lo faccio sentire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non mi resta che ringraziarvi. Come vi dicevo prima di Funia lo trovate su tutte le piattaforme streaming e per qualsiasi informazione mi trovate sul mio sito www.dennybertone.com oppure su tutte le mie pagine social. Un grandissimo grazie e a presto.